Continuano le nostre passeggiate all'interno del centro storico di Sassari. Oggi, come potete vedere dalle immagini, siamo in vicolo Godimondo, altro tratto caratteristico del centro storico sassarese. Secondo alcuni, il nome Godimondo deriva dal fatto che la strada fosse stata risparmiata dalla peste. In realtà, fu la via dove nel Cinquecento dimorò un tizio chiamato Luvigu Godilumondu. Anche quest'angolo di Sassari, quindi, è ricco di storie e di cerie dei tempi antichi, a sottolineare quanto abbiano da raccontare le strade sassaresi. Ora, ci spostiamo in via Mela, un altro angolo molto interessante di Sassari, classica via con i portoni delle case, uno di fronte all'altro, molto vicini, che sfocia in una piazzola ricca di verde, curato dai residenti. Vi lasciamo ora con qualche secondo di piacevoli immagini. Grazie a tutti. Grazie a tutti.